Buongiorno, ci vediamo oggi 14 dicembre a termine della seduta odierna del Consiglio Comunale. I punti all'ordine del giorno erano tre. Uno era un debito che il Comune di Acerra aveva con l'Ari in ABC già dal 2002, un debito che è stato sottoposto a diversi giudizi, diverse sentenze, ultimo della quale vedeva soccombente il Comune di Acerra nel contenzioso. Ebbene, la maggioranza ha approvato la transazione che vede il Comune di Acerra risparmiare diversi milioni di euro, così come in aula i consiglieri di maggioranza hanno riferito all'opposizione e pertanto i cittadini hanno risparmiato diversi milioni di euro. Il secondo punto all'ordine del giorno invece trattava l'ato rifiuti. In realtà questo punto all'ordine del giorno è stato richiesto dalla minoranza che ha convocato il Consiglio, l'assessore ha relazionato in merita ed ha illustrato il piano all'aula, ma quando dovevamo discutere delle osservazioni l'opposizione non ha avuto nulla da osservare e pertanto non abbiamo votato nulla. Il terzo punto all'ordine del giorno riguardava la nomina dei revisori dei conti. Di questi due vengono sorteggiati in prefettura e ratificate dal Consiglio, il terzo è il Presidente che è stato scelto e votato dal Consiglio Comunale ed ora il Comune di Acerra ha costituito e da l'organo di revisione contabile individuato. Poi è stata chiusa la seduta e ci rivedremo a presto per ulteriori aggiornamenti sui lavori del Consiglio Comunale della città di Acerra.